Buonasera e bentrovati su Reteconomy, questa è Auto 3.0, come ogni puntata affrontiamo un tema differente legato al settore automotive, vi presento subito i miei ospiti, un bentrovato a Roberto Boccafogli e un bentrovato anche all'ingegner Marco Martina di Deloitte, questa sera torniamo a parlare di Tesla perché Elon Musk ha calato il jolly con la presentazione di questa nuova Model 3 che non è ancora sul mercato ma che ha già ricevuto 400.000 ordini.